Alvarez è pronta ad andare dalla bandierinata, le camere che ricercano Lollo, c'è anche Maldonado, ballone che passa dalle parti di Kinteros, calcia e colpisce Cruz, poi Flipper che per poco non è free da Ray, sfortunato il gimnazio alla plata che rischia un autogall che avrebbe fatto il giro del mondo, Cruz colpisce in qualche modo il pallone ovviamente in mano.